Erika! Eri di Shen? No. Allora adesso vedi che salta fuori da Pezzi. Sì. Allineamento Pistater 2 autorizzato il decollo. Allineamento Pistater 2 autorizzato il decollo. Allineamento Pistater 2 autorizzato il decollo. Destra poi Desenzano 1.5, India fa i consigliarciati. Grazie. Allineamento Pistater 2 autorizzato il decollo. Allineamento Pistater 2 autorizzato. Allineamento Pistater 2 autorizzato. Allineamento Pistater 2 autorizzato. Let it up là ne? Allineamento Pistater 2 autorizzato. Allineamento Pistater 2 autorizzato il decollo. Grazie a tutti Buon ricordo me se è la luna Buon ciao Eccare il Se è l'offere E' uscito La fa eco ferocciami, guzzano, c'è Il connaca è corretto, preferenziale Al momento Di fegge 1, 1, 0,40 gradi Quattro ruoli per ropica Si aspetta Buon coraggio 3, video se lo so Grande vecchio Numero 1 Si copiato Facciamo Grazie a tutti Grazie a tutti Anche per lei All'altezza del cartello giallo E-PON3 Che vede sulla sua sinistra Sulla Taxway Alpha Quell'altezza può girare a destra Ed entrare nel parcheggio in Erba E scegliere lo stand che preferisce In mezzo è conoscato All'altezza del cartello giallo E-PON3